buongiorno buongiorno a tutti questa mattina il tempo è nuvoloso però non si sta male voglio dire fa caldo lo stesso ce n'è gente alle 10 in giro del mattino tanto al mare non possono andare quindi vanno a spasso tanto più tardi riuscirà a pulire il sole sicuramente come fa quasi ogni mattina così mese di giugno non è stato tanto guapo almeno la mattina questo mese ancora l'ego ragazzi ha riaperto il maiz è tornato dalle ferie è un'altra cosa adesso questo calo aperto il maiz il mare è una tavola stamattina bello calmo adesso fra un po' esce il sole e va bene così facciamo il giro una passeggiata al paseo una passeggiata al paseo marittimo questo locale non vuole aprire più ah vedo che stanno facendo lavori è aperta la porta ma glielo auguro per loro ci lavoravo io qua prima ragazzi la marina il locale della marina all'isce Ristorante Hotel La Marquesina Che bello questo pezzetto qua, lo inquadrano. Qua sta un aprenurato locale. Vicino alla rossa dei venti. Ma cosa che viene? Non lo so. Non lo so, se viene un ristorante, un pub, non lo so. Un elicottero. Che è successo? Giriamo e andiamo alla Caglia Inglésias. Qua è la zona dei locali, ragazzi. Serali. Quasi tutti serali. Questo qua già traspassa. Madre mia. E chi se lo compra? E ora siamo alla piazza dove cantono la sera, suonano ballo. Questa roba. Tutta roba di cocktail. Ristorante, ristorante. Questa cazzo è la polizia. Questa cazzo è tirando. Che è successo? Non lo so. Vedete. Lo so. Questa cazzo è successo, qualcuno lo sa. Questa cazzo è successo. Questa cazzo è successo, il mondo è successo. Questa cazzo è successo. Questa. Bene, giovanotti. Questa è la caglia Le Pantò, la caglia principale, caglia Le Pantò, questo locale è fatto nuovo, sarà un anno che l'hanno preso, l'anno ingrandito, bello, molto bello. Andiamo. Ok, vado a casa, vi mando questo video, vi auguro un buon inizio di settimana a tutti, seguitemi mentre tu like ragazzi, grazie e buongiorno.